Su proposta di Anci Toscana è stato approvato dal Consiglio regionale della Toscana un emendamento presentato dai consiglieri del PD che porta complessivamente a 24 mesi i termini di scadenza per i procedimenti della formazione territoriale urbanistica già avviati il 31 dicembre scorso. La legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 dunque l'efficacia delle previsioni urbanistiche, dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici vigenti previsti in scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. Con la legge che abbiamo approvato ieri si unificano le scadenze urbanistiche dovute anche alle proroghe che sono state fatte più volte in virtù della pandemia al 31 dicembre di questo anno. In più si raccoglie anche la sollecitazione di Anci che ha chiesto di prorogare di ulteriori sei mesi il tempo per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici dei comuni. Si tratta di una misura che è figlia di questo tempo, che cerca di agevolare i comuni in difficoltà organizzative per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici per dare il tempo necessario per farli con l'adeguata cura e seguendo tutte le procedure previste dalla legge. Mi sembra che sia una norma importante perché si va incontro alle esigenze dei comuni ma soprattutto si garantisce speditezza e certezza del diritto dell'urbanistica nella nostra regione. Noi abbiamo votato a favore come lo abbiamo fatto le scorse volte quando è stato proposto. Abbiamo detto però chiaramente che c'è un problema serio sulla 65 del 2014. Ora non solo come sappiamo e come abbiamo detto più volte è stata modificata 20 volte in sei anni ma abbiamo un problema anche per renderla attiva e fattiva nei tempi perché le amministrazioni comunali che devono seguire comunque quella legge hanno difficoltà. Hanno difficoltà non solo per il covid e le proroghe arrivano per la pandemia ma hanno difficoltà anche perché spesso gli uffici non riescono ad adempiere nei tempi o comunque con il personale che hanno a quello che va fatto. E questo bisogna metterlo in conto perché la regione non può far legge e poi abbandonare gli enti locali. Sappiamo bene che la pianificazione è strategica, è strategica per lo sviluppo del territorio è strategica anche per i posti di lavoro e per le aziende che si vogliono insediare. La 65 questo territorio l'ha bloccato e ora sì bene che ci siano le proroghe tutti i nostri amministratori chiedono e sono favorevoli alle proroghe però dobbiamo anche snellire il sistema e rendere la Toscana più attrattiva e più facilmente governabile anche dagli enti locali. Questo purtroppo non è possibile perché questa legge che è stata ostacolata dal centro-destra comunque nel 2015 a fine di quella legislatura e che noi abbiamo continuato a dire che va rivista secondo noi siamo arrivati al punto che deve essere totalmente riscritta. Lo diciamo da tempo, lo diciamo con forza perché effettivamente anche dopo la pandemia dobbiamo pensare a come risollevare la Toscana e la 65 potrebbe essere un grosso ostacolo allo sviluppo della Toscana. La Giunta ha portato un'ulteriore proroga dei termini per la pianificazione cioè per l'adozione e approvazione da parte dei comuni dei piani strutturali e dei piani operativi. Questo perché la pandemia impedisce sostanzialmente di fare la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni alle scelte di pianificazione urbanistica e già quando ero assessore all'urbanistica Pistoia e poi successivamente non appena insediata la nuova consigliatura si è posto il problema di prorogare questi termini perché la legge 6514 prevede tre anni entro i quali chiudere dall'avvio della procedura sia il piano strutturale che il piano operativo. Con la pandemia ormai sono 18 mesi, 17 mesi, è impossibile rispettare quei termini e quindi siccome la legge prevede delle sanzioni molto pesanti a carico dei comuni inadempienti come per esempio il blocco del rilascio dei permessi a costruire è chiaro che si rischiava ad avere oltre al danno della pandemia e quindi la mancanza della pianificazione la beffa per cui i cittadini e le imprese non avrebbero potuto realizzare gli interventi nemmeno minimali sul proprio patrimonio. Da qui l'esigenza di fare un'ulteriore proroga fino alla fine di questo anno sperando che la pandemia sia finalmente superata e soprattutto una riflessione che ho lanciato sulla legge 6514 ovvero sia se nel terzo millennio sia ancora possibile con gli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione avere due livelli di pianificazione cioè PS e PO oppure sul modello emiliano se non sia migliore tornare ad un unico livello di pianificazione per semplificare la vita ai comuni ma soprattutto ai cittadini e alle imprese. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza col voto favorevole di PD Italia Viva e Movimento 5 Stelle il voto contrario di Fratelli d'Italia e Forza Italia e la stensione della Lega la legge regionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Come prevede la legge approvata il Consiglio regionale celebrerà questo anniversario organizzando eventi e promuovendo in particolare mostre ed esposizioni, iniziative di studio e di ricerca, convegni, presentazioni di libri, laboratori didattici e spettacoli. È prevista una seduta solenne del Consiglio regionale che si terrà nel mese di settembre e sostegno economico a eventi e iniziative con uno stanziamento complessivo di 100.000 euro. Oggi approviamo la PDL 39 che istituisce il Consiglio straordinario dedicato a Dante in questo anno di celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte e oltre a questo stabilisce una serie di attività promosse dall'Ufficio di Presidenza insieme all'Ufficio di Presidenza della Quinta Commissione per onorare anche dal Consiglio regionale questa importante celebrazione. Devo dire che Dante ha avuto con Firenze un rapporto tormentato e ha sofferto quindi è andato a morire fuori dalla Toscana allora poterlo ricordare in un momento così significa anche fare i conti con la nostra storia. La storia non si cambia ma si studia, si approfondisce, se ne sottolineano gli elementi di identità e non c'è dubbio che Dante Alighieri per i toscani sia un elemento di forte identità. Con questa iniziativa vorremmo dal Consiglio regionale mandare alcuni messaggi e fare anche un piccolo investimento a sostegno delle attività di produzione culturale. Quindi il Consiglio regionale stanzierà 100.000 euro per progetti da far rientrare in questo piccolo calendario di attività promosse dal Consiglio stesso. Questa legge è importante, io l'ho anche firmata e in Commissione ho votato favorevolmente l'ho votata, cioè l'ho firmata perché Dante non rappresenta solo la Toscana ma direi che rappresenta l'Italia nel mondo 700 anni sono tanti e è ancora molto attuale infatti diciamo che stiamo passando dall'inferno al pubblicatorio con quello che ci è successo in quest'ultimo anno e si spera veramente di rivedere le stelle presto come lui è entrato nella selva oscura noi siamo entrati in questo periodo di Covid e speriamo presto di uscirne. Poi per il discorso dei 100.000 euro che hanno stati stanziati è venuto fuori qualche problema perché abbiamo scoperto che già la Giunta ne aveva stanziati 250.000 quindi abbiamo chiesto se si poteva in qualche modo eliminare questo punto dalla proposta di legge ci è stato detto di no quindi ci siamo astenuti però per me Dante è sempre il sommo poeta. Noi abbiamo scelto di votare contrario all'istituzione della legge su Dante siamo certamente favorevoli a ricordare Dante a 700 anni dalla sua morte sappiamo anche che l'infrastruttura più importante che questo paese ha è l'infrastruttura culturale e su questo dobbiamo puntare però abbiamo anche consapevolezza di cosa stiamo facendo mettere oggi 100.000 euro del Consiglio regionale dei soldi dei cittadini per ricordare Dante quando la Giunta ne ha già messi 200 e quindi sommandoli si arriva a oltre 300.000 euro a noi sembrava eccessivo le famiglie non arrivano a fine mese molte delle nostre aziende stanno chiudendo molte delle attività commerciali non riusciranno a riaprire post pandemia crediamo che le risorse debbano essere non soltanto gestite come il buon padre di famiglia ma anche in maniera molto oculata ecco perché abbiamo votato contrario perché la legge è tardiva perché c'è già la Giunta regionale che ha investito 200.000 euro se si vuole fare qualcosa su Dante di estremamente serio lo si doveva fare prima guardate il 25 di marzo è il Dante Day ecco il 25 di marzo è già passato Dante muore nella notte fra il 13 e il 14 di settembre è giusto che il Consiglio regionale lo ricordi con una seduta solenne entro il 30 di settembre però ci sembra davvero eccessivo mettere 100.000 euro in sei mesi perché se andiamo a vedere sono semplicemente sei mesi quelli è l'arco del tempo in cui noi potremmo fare delle iniziative ecco la Giunta fa bene a stanziare 200.000 euro per ricordare Dante ma ci sembra che il Consiglio regionale non debba in questo momento metterne altri 100 ma quei 100.000 euro debbano andare a sostenere famiglie da imprese che sono estremamente in difficoltà Il Consiglio regionale della Toscana ha respinto a maggioranza una mozione sulla riconversione green dell'impianto industriale Solvei a Rosignano Marittimo presentato da Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle che chiedeva l'impegno della Giunta a farsi promotore presso il nuovo Ministero alla Transizione Ecologica di un'accelerazione della riconversione dello stabilimento Solvei L'atto ha ricevuto il voto favorevole di Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia tutti gli altri gruppi hanno invece votato contro Finalmente oggi siamo arrivati in aula a discutere questa mozione che chiedeva semplicemente degli impianti di depurazione per gli scarichi industriali di Solvei che da oltre un secolo sta inquinando la costa tant'è che ha cambiato addirittura la morfologia del territorio Ho portato a testimonianza diversi studi che sono pubblicati sul Ministero dell'Ambiente dati scientifici segnalazioni di reato ma ciò non è bastato a convincere il partito di maggioranza a votare a favore di questo atto probabilmente la sensibilità ambientale del Partito Democratico ancora una volta dimostra di non essere all'altezza della teoria ossia di quello che scrivono nel programma di mandato perché a parole dicono una cosa e poi nei fatti ne fanno assolutamente un'altra a distanza di un secolo siamo ancora a discutere di un tavolo che forse si farà se prima o poi ne avranno voglia per discutere che cosa fare ecco con tutti i milioni di euro che sono stati concessi a questa azienda per lo sviluppo industriale come minimo doveva essere compreso un impegno alla tutela ambientale e alla bonifica dei luoghi inquinati siamo ancora invece a parlare di uno studio epidemiologico che forse verrà messo in campo prima o poi per studiare come e perché le persone laggiù muoiono con un'incidenza maggiore che altrove ecco io credo che questa inerzia sia gravissima e soprattutto alla luce di quello che è venuto fuori recentemente con lo scandalo dei rifiuti delle concerie di Santa Croce almeno almeno mi sarei aspettata una richiesta di emendamento insomma un voto favorevole anche perché si viene a a ditare a me di essere estremista quando ormai la soluzione è già estrema e non si può negare che l'inquinamento là ci sia e che sia grave accanto agli aiuti previsti da governo in regione toscana sono opportune ulteriori misure di sostegno per le attività economiche collocate non solo nei centri unesco ma più in generale in tutti quei comuni toscani caratterizzati da un'elevata presenza turistica questo alla base della mozione della Lega primo firmatario Giovanni Galli approvata all'unanimità dopo gli emendamenti presentati da Andrea Vannucci del Partito Democratico accolti dai proponenti credo che sia sotto l'evidenza di tutti il fatto che i centri specialmente i centri turistici storici come li abbiamo in Toscana abbiano subito in questa pandemia una mancata proprio di essenza e di presenza è logico che devono essere inseriti a nostro avviso e così come ci è stato richiesto proprio da tutti gli operatori di essere inseriti nella filiera turistica per avere un riconoscimento diverso da quelle che sono le stesse categorie ma che non si trovano all'interno dei centri storici dove la presenza del turista è fondamentale questi hanno investito proprio sul turismo in questo turismo in questo momento non c'è per cui la stessa attività che si svolge nel centro storico o fuori dal centro storico è logico che a livello di fatturato la differenza è notevole per cui abbiamo cercato e abbiamo trovato all'appoggio anche della maggioranza attraverso alcuni emendamenti l'unione di intenti proprio di poter inserire questi centri storici toscani tra quelle categorie che dovessero avere un ristoro un occhio diverso rispetto alle altre per cui siamo felici siamo contenti siamo arrivati anche se volevo sottolineare che era già stato attraverso anche il consiglio di Fiorentino perché arriva anche al comune di Firenze era già stata approvata questa mozione per cui abbiamo dato continuità e adesso oltre Firenze tutti gli altri centri toscani potranno avvalersi di questo indirizzo insediata in consiglio regionale la commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose della criminalità organizzata sono stati eletti Elena Meini della Lega Presidente Lucia De Robertis del PD Vicepresidente e Maurizio Sguanci d'Italia Viva Vicepresidente e Segretario Presidente Ufficio di Presidenza hanno ricevuto il solo voto contrario di René Galletti del Movimento 5 Stelle come da impegno preso in consiglio regionale in pochi giorni si è insediata la commissione è stata eletta la collega Elena Meini Presidente a lei auguri di buon lavoro questo è un lavoro che dobbiamo mettere a disposizione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini della Toscana il dato più importante è che non c'è stata differenza tra le forze politiche qui va innalzato un muro contro la criminalità organizzata la Toscana è sempre stata una terra che questo muro l'ha avuto molto alto e gli eventi delle ultime settimane ci fanno preoccupare ci fanno preoccupare tanto e per questo è necessario che quella commissione vada in profondità audisca tutti i soggetti che possono essere interessati e costruisca le condizioni perché la Toscana sia sempre più una terra libera dalle infiltrazioni mafiose mi aspetto sicuramente di partire con una chiarezza su quella che è stata l'inchiesta che ha travolto purtroppo la nostra regione però non ci fermeremo assolutamente lì perché purtroppo lo abbiamo visto in Toscana la mafia c'è esiste e il compito della commissione dei consigliari regionali deve essere quello di far sì che si applichino si studino delle nuove norme per far sì che tutto ciò non si ripeta dal punto di vista ambientale dal punto di vista sociale soprattutto per il periodo di pandemia che stiamo attraversando la crisi economica che ci ha travolto purtroppo attira anche questa criminalità organizzata quindi il nostro compito in primis sarà quello di tutelare il tessuto economico della regione toscana studiare il mondo imprenditoriale e far sì che ulteriori infiltrazioni mafiose non si ramificano nella nostra regione il nostro regolamento prevede che la commissione abbia la durata di tre mesi prorogabili per altri tre mesi quindi nel giro dei sei mesi noi sicuramente presenteremo al consiglio regionale una relazione nei prossimi giorni si riunirà all'ufficio di presidenza per fare una calendarizzazione più che delle date di come vogliamo improntare la commissione perché io ho una mia idea su quelli che saranno i soggetti che dovranno essere uditi in commissione su come dovremmo svolgere l'attività della commissione però voglio condividerlo con l'ufficio di presidenza perché credo che questo debba essere un lavoro collegiale e non di un partito di una coalizione ma di tutto il consiglio regionale io chiederò sicuramente che vengono uditi alcuni dei soggetti convolti nell'inchiesta chiederò che vengono uditi i prefetti di tutte le nostre province perché sicuramente sono quelli che sono a contatto più con la questione della criminalità organizzata e chiederò anche di coinvolgere le associazioni che si occupano di mafia in Italia ma anche in Toscana perché credo che lo studio che loro fanno tutti i giorni quotidianamente l'impegno che loro mettono debba essere riconosciuto anche da questa commissione e noi abbiamo bisogno di persone come loro che ci diano un supporto per far sì che tutto questo in Toscana non si verifichi nuovamente che la regione metta in atto quelle procedure quelle attenzioni quelle modifiche normative laddove fossero necessarie per evitare che chi molto più bravo di noi a volte riesce a infiltrarsi nelle maglie delle leggi dei regolamenti delle delibere delle interpretazioni questo io mi auguro questo di riuscire attraverso l'aduzione di ascoltare tanti soggetti e di capire se la normativa regionale davvero riesce a mettere in sicurezza questa regione dalle infiltrazioni mafioso per lo meno fa quello che può fare rispetto alla capacità e alla possibilità che abbiamo noi di normare tutta una serie di attività per evitare che chi vuol fare della regione una terra dove tutto si può fare ha sbagliato regione noi non siamo una commissione di inchiesta parlamentare quindi ci sono dei limiti come voi sapete è molto diverso quindi noi dobbiamo attenerci all'ascolto e al tentativo di risolvere questi i problemi che ci vengono esposti questo è un momento davvero particolare per il nostro paese per la nostra regione bisogna mettere in condizioni gli imprenditori di ripartire al meglio di ripartire senza quelle scorie che ci possono essere rispetto alle infiltrazioni il nostro impegno sarà non tanto quello di occuparci dei fatti o corsi perché quello è compito della magistratura ci sono indagini in corso quindi non saremo noi ad intralciarla cercheremo di contattare tutte le prefetture per capire lo stato dell'arte che la fragilità in questa regione in qualche modo ha apportato la pandemia ha apportato questa fragilità nella regione chiaramente in un momento di così grande difficoltà economica per le cosche mafiose è assai più facile penetrare il tessuto produttivo noi cercheremo di capire quale sono le criticità in modo da poterle poi prevenire portandole alla luce del sole e poi adottare tutti quelli che saranno i provvedimenti che noi riterremo necessari in consiglio affinché tutto questo venga scongiurato ancora una volta è stato utilizzato il metodo di escludere il Movimento 5 Stelle dalla discussione che è diventata monopolio da una parte della coalizione di maggioranza e dall'altra dalle opposizioni del centro-destra e la cosa curiosa è che l'unico gruppo regionale che sicuramente non ha avuto nessun contatto di nessun tipo anche durante la campagna elettorale con chi in questo momento è oggetto di inchiesta è stato proprio il Movimento 5 Stelle quindi probabilmente l'unico che poteva garantire un'assoluta diciamo lontananza dai temi molto difficili che saranno trattati in questa commissione alla quale comunque auguro buon lavoro e a cui do subito una prima indicazione secondo me di come si dovrebbe impostare cercare di fare un'esatta panoramica della situazione ambientale in regione toscana che ha coinvolto diciamo non soltanto lo scandalo che è ma anche altre iniziative dove ci sia un coinvolgimento della criminalità organizzata e cercare anche di fotografare quelli che sono le carenze del Consiglio regionale e della Giunta per quanto riguarda la permeabilità a fenomeni di tipo corruttivo ma anche e soprattutto di infiltrazioni di organizzazioni malavituose e connotazioni di carattere mafioso e su questo devo dire che è un peccato non aver sfruttato le indicazioni che sono arrivate dalla Fondazione Caponnetto e dalle molte persone che sono state audite nel 2018 durante la commissione di inchiesta rifiuti all'epoca presieduta dal Movimento 5 Stelle ciò che è emerso da quella commissione e dalle audizioni sarebbe stato già fondamentale per non arrivare alla situazione in cui oggi ci troviamo noi come tutti i toscani ci aspettiamo trasparenza ci aspettiamo informazioni ci aspettiamo di capire la realtà non soltanto dai rapporti economici che vedono purtroppo coinvolta anche la mafia l'andrangheta nel territorio toscano quanto di capire l'entità del disastro ambientale che determinate operazioni hanno comportato e conseguentemente ci aspettiamo naturalmente di avere dati notizie informazioni siano utili al governo regionale toscano non solo per tagliare definitivamente cordoni con alcuni ambienti malavitosi ma anche soprattutto per garantire ai cittadini e alle imprese pulizia anche pulizia ambientale e soprattutto la possibilità di operare in un sistema economico corretto che Grazie per la visione!